Le api non fanno parte del mondo. Le api sorreggono il mondo. Niente squalificati per la Cavese in vista della gara con il Cerignola di domenica prossima. Vincenzo Maiuri, l'allenatore, riavrà a disposizione l'attaccante Adama Diarrasuban, che ha scontato la squalifica, mentre un giocatore tra i cerignolani sarà assente perché fermato dal giudice sportivo. Si tratta del difensore centrale Gonnelli, il quale ha subito a Monopoli la sua quinta ammunizione del campionato. Per gli Aquilotti è tuttavia entrato in diffida il centrocampista Pezzella, che è arrivato a quattro ammunizioni ricevute, così come l'altro centrocampista Conatè. Per ciascuno dei due scatterebbe una giornata di stop forzato in caso di cartellino giallo. Altri squalificati dopo il quindicesimo turno del campionato. Per doppia ammunizione è stato fermato per una giornata l'esterno LIA del Messina, il quale non potrà giocare contro il Sorrento, che a sua volta sarà privo del fantasista Guadagni, squalificato per cumulo di ammunizioni. Stop di una giornata anche per l'attaccante del Picerno, Emanuele Esposito, impossibilitato pertanto ad affrontare l'Altamura, perché ha ricevuto la quinta ammunizione. A sua volta, per cumulo di ammunizioni, l'Altamura perde il proprio cannoniere Leonetti per un turno. C'è una giornata di squalifica al centrocampista del Potenza, Billal Airadi, che salterà la sfida al vertice col Monopoli, e per un turno viene fermato lo stopper Caldore del Giuliano, il quale non potrà essere della partita contro la Casertana. E ha munito per la quinta volta anche Gallo, centrocampista del Crotone, squalificato contro la Juventus Next Generation. Altri squalificati per un turno sono l'esterno destro del Taranto, Mastro Monaco, che salterà il Benevento, il regista dell'Atina Peterman, che non giocherà contro il Trapani, e il difensore Celiento del Trapani. Anche lui salterà il match con l'Atina. Tutti out per cumulo di ammunizioni. Espulsione diretta per il centrocampista d'attacco del Picerno, Vitali, il quale ha avuto una giornata e anche 500 euro di multa, perché mentre lasciava il campo contro il Sorrento, si lasciava andare a un gesto di stizza, mollando un calcio a un tabellone luminoso. E due giornate li ha ricevute l'ala destra dell'Avellino, Tribuzzi. A partita finita, contro il Benevento, cercava di colpire un giocatore della squadra avversaria, senza riuscirci, ma Tribuzzi non potrà giocare contro Catania e Monopoli, due avversarie difficili. Picerno, che è stato alquanto scontento dell'arbitraggio contro il Sorrento, non solo è stato espulso Vitali, ma lo stesso destino è toccato anche all'allenatore Tomei, squalificato per una giornata, e al dirigente Greco, inibito fino al 19 dicembre e multato. Prolungata l'inibizione del presidente del Trapani Antonini, il quale, pur essendo già inibito, faceva ingresso negli spogliatoi della propria squadra. Adesso il provvedimento dura fino al 4 di dicembre. Allo stadio Cibali di Catania, il presidente aveva avvertito un malessere e aveva avuto bisogno di cure proprio nello spogliatoio, pertanto gli sono state riconosciute le attenuanti come dal codice di giustizia sportiva. Sanzione pecuniaria a una sola società del Gironici, in latina, per un coro oltraggioso rivolto da propri tifosi nei confronti delle forze dell'ordine.